Gaetano ben in casa, volto noto dalla politica in area di Caltagirone, Palagonia è morto in uno scontro tra un'auto e un camion. Il 44 anni era stato vicino all'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, e nel 2017 aveva accorso per le regionali nella lista dell'Udici appoggiando la candidatura dell'attuale governatore, Nello Musumeci. Il sinistro è avvenuto lunedì sera, poco prima delle ore 20, il personale dell'ANAS è intervenuto sulla statale 114 orientale Sicula, in fase di ricostruzione alla dinamica e le cause del sinistro. Ben in casa ricopriva la carica di vice segretario regionale della Confederazione Italiana, Federazioni Autonome e lascia un bambino piccolo e la moglie.